Radio Radicale, siamo col senatore Luigi Spagnoli delle Autonomie per parlare con lui di Indy Gregory che questa notte è morta. Allora il caso di questa bambina ha fatto discutere il nostro paese per settimane. Allora volevo chiederle se lei immaginava un altro sviluppo di questa vicenda e come ha trovato il comportamento dell'autorità britannica, almeno dopo il Consiglio dei Ministri che ha concesso la cittadinanza a questa bambina. Ma allora è evidente che si è trattato di una vicenda terribile e soprattutto per chi è genitore c'è una comprensione totale dei genitori di Indy. E' stata anche terribile come pur essendo resa evidente tutta la vicenda a livello mediatico, comunque è andata verso questa direzione che è parcia ineluttabile e che ci fa sicuramente stare tutti male. Dall'altra parte va anche detto che l'Inghilterra è una grande democrazia, ha le sue regole, è una democrazia anglosassone in cui i decisori sono definiti e decidono assumendose nelle responsabilità. Per cui io che sono di performazione istituzionale oltre un certo limite non mi sento neanche di contestare. Certo è che il nostro governo rappresentando la sensibilità degli italiani ha fatto quello che si è sentito in dovere di fare e direi che ha in questo caso sicuramente rappresentato al meglio la nostra sensibilità, il nostro modo di concepire anche l'approccio nei confronti delle malattie seppure gravissime, però non è bastato. Un sistema come quello britannico applicato al nostro paese troverebbe il suo consenso? No, credo di no, nel senso che ci sono, la Gran Bretagna ha questi organi monocratici che decidono, ecco io credo che in certi casi particolari come questo, le decisioni non possano che essere prese a un livello almeno collegiale, perché le persone da sole possono farsi condizionare anche da circostanze un po' particolari, ma quando c'è un organo collegiale, una commissione, il governo che decide difficilmente e prevalgano le emozioni c'è molto più probabilmente una riflessione più profonda e la decisione più fondata. Penso che la Meloni ha fatto quello che poteva o hanno contato anche i buoni rapporti con il premier Sunniac che appartiene alla stessa famiglia politica di Giorgia Meloni, tenendo conto dell'indipendenza della magistratura? Ma guardi, non credo che qui entrino in gioco rapporti di tipo politico o di colore politico, alla fine l'Inghilterra è un paese sovrano e a casa sua decide e ha deciso e c'era poco da fare nel momento in cui questa è stata la decisione. Certo, noi abbiamo fatto del nostro meglio, Giorgia Meloni ha fatto del suo meglio col suo governo, per fare sì che questa decisione non fosse nella direzione che poi è stata presa, però non è andata, non è che si possa condannare il nostro governo per non essersi attivato. Si è attivato, purtroppo non è riuscito a fare di meglio di così. La vicenda l'ha fatta riflettere sulla libertà, sulle libertà individuali, per come vengono concepite in quel paese, nel nostro paese? Sì, certamente, fa riflettere. Tutti questi episodi che peraltro si sono susseguiti anche simili, diciamo analoghi, nel corso degli ultimi decenni, tutti contribuiscono a far crescere una cultura dell'approccio al dolore, una cultura dell'approccio alla morte, che è necessaria perché noi siamo cambiati nel corso del tempo. Fino a qualche decennio fa c'era molta più rassegnazione, c'era anche molta minore conoscenza delle regole della medicina, molta minore sensibilità rispetto alle cure. Adesso le persone sono spesso preparate, sì, qualche volta è vero, indulgono troppo a guardare in rete quello che c'è da fare anziché affidarsi ai veri esperti, però la qualità della conoscenza in ambito medico oggi è sicuramente molto maggiore che una volta e quindi le regole devono essere adeguate a questa nuova situazione in cui si trova la nostra popolazione. Bene, la ringrazio delle sue valutazioni, ringrazio il senatore Luigi Spagnoli del gruppo delle autonomie con il quale abbiamo parlato del caso di Indi Gregory. Grazie.